che è mandata dall'agenzia. Io sono Stromberg. Ah no, è piacere. C'è stata una chiamata per lei, signor Stromberg, da parte di un certo dottor Stefan. Vuole vederla a Luna per il lunch, cioè per il pranzo, al ristorante dell'hotel Variety. Non ci vada così. Mi scusi, arrivederci. Addio. Lei non ha avuto molto successo. Ma il tutto è relativo. Almeno lo ha trovato. Chi? Meissner. Dunque lei sa dove si nasconde. Si è messo in contatto con la polizia. Mi sta ascoltando? Non vede che non so come cavarmela. Glielo spiego? No, grazie. Preferisco andare a mangiare qualcosa di più semplice. Allora il caso è chiuso, è secco. Balle. Continuiamo dopo. Comincia solo adesso. Siamo appena all'inizio. Ma una cosa posso dirtela. È un affare grosso. Molto grosso. Se questo è l'inizio, come sarai ridotto alla fine? Sono stato sfortunato, nient'altro. Però ho trovato Guido Meissner. E ho parlato con lui. Se è possibile non ti accorga in che nido di vespe ti stai cacciando.